Bene, affrontiamo ora l'esercizio tipo numero 17. Considerate il seguente gioco in cui ciascuno dei due giocatori A e B possiede due mosse. A possiede le mosse A1 oppure A2, B possiede le mosse B1 oppure B2 ed è rappresentata una matrice doppia come usuale in questi casi di interdipendenza strategica. Allora il giocatore A possiede due possibili scelte, A1 e A2, B possiede due possibili scelte B1 e B2, sono possibili quindi in tutto quattro situazioni. Se A gioca A1 e B gioca B1, gli esiti che derivano sono che A ottiene un guadagno pari a 0 e B ottiene un guadagno pari a più 3. Se A gioca A1 e B sceglie B2, A guadagnerà meno 5 e B guadagnerà meno 2. Nel caso A scelga A2 e B sceglie B1 i guadagni sono meno 2 per A e meno 5 per B e infine nel caso in cui A scelga A2 e B sceglie B2, A guadagna meno 3 e B ottiene un risultato pari a meno 3. Per convenzione in ogni casella sono rappresentati due guadagni, per primo viene indicato il guadagno riferito al giocatore indicato in riga e per secondo viene indicato il guadagno riferito al giocatore indicato in colonna. L'esercizio chiede, primo, stabilite se il giocatore A possiede strategie dominanti. Che cosa vuol dire strategia dominante? Una strategia dominante se rappresenta la migliore risposta qualsiasi sia la scelta dell'avversario. Allora per stabilire se un giocatore possiede strategie dominanti dobbiamo metterci nei suoi panni e valutare che cosa farebbe in corrispondenza di ogni possibile scelta dell'avversario. Partiamo dal giocatore A. Stabiliamo se il giocatore A possiede in questo caso strategie dominanti. Bisogna ragionare in questo modo. Io sono A, non so cosa farà B, però se B gioca B1, per me A. Che cosa è meglio fare? Se gioco A1 guadagno 0, se gioco A2 guadagno meno 1. Quindi è evidente che per me A, posto che B giochi B1, è meglio scegliere A1 perché mi dà come guadagno 0, anziché meno 2. E se B giocasse B2? Se B giocasse B2 per me A, i guadagni sarebbero meno 5 oppure meno 3, a seconda che giochi A1 o A2. Quindi per me la risposta ottimale da dare se B gioca B2, per me A è giocare A2. Allora in questo caso notate che la risposta ottimale di A è giocare A1 se B gioca B1 oppure giocare A2 se B gioca B2. Perciò A non possiede una strategia dominante perché non è vero che sceglie la stessa mossa qualsiasi sia la scelta di B. Quindi la conclusione è A non possiede strategie dominanti perché la sua risposta migliore in un caso è A1, nell'altro caso è A2. Apro parentesi. A avrebbe una strategia dominante se la medesima mossa fosse la risposta migliore qualsiasi cosa fa B. Ad esempio se avessi una mossa A3 per cui se B gioca B1 per A è meglio giocare A3, per se B gioca B2 per A è comunque meglio giocare A3 in questo caso A3 sarebbe dominante, ma in questo caso A non possiede strategie dominanti. Valutiamo se possiede B strategie dominanti che è quanto richiesto dal secondo punto dell'esercizio. Come debbo ragionare? Mi metto nei panni del giocatore B, non so quello che farà A, io giocatore B valuto le mie risposte migliori in corrispondenza di ogni possibile scelta di A. Allora se A gioca A1 i guadagni per B sono o più 3 se lui ha giocato B1 o meno 2 se B ha giocato B2. Ora tra più 3 e meno 2 per B è chiaro che è meglio più 3, quindi posto che A giochi A1 la risposta migliore di B è giocare B1 e posto che A giochi A2, posto che A giochi A2, B ottiene come guadagni meno 5 o meno 3, quindi la risposta migliore che B può dare alla mossa di A uguale a 2, la risposta migliore di B è B2. Allora ponetevi nei panni di B, B non sa cosa farà A, ma se A gioca A1 la risposta migliore di B è B1, se A gioca A2 la risposta migliore di B è B2, anche B non ha una mossa che rappresenta sempre la risposta migliore qualsiasi sia la scelta di A, quindi anche B non possiede strategie dominanti. La domanda C è stabilite quale o quali sono gli equilibri di Nash. Ora gli equilibri di Nash sono quelle situazioni in cui ciascun giocatore non si pente di quello che ha fatto dopo aver osservato quello che ha fatto l'altro, e questo vale per tutti i giocatori, ovvero sia l'equilibrio di Nash è l'incontro dove esiste delle risposte migliori, in questo caso noi osserviamo che esistono due caselle in cui si incrociano le risposte migliori di A e di B, e queste due caselle sono A1 B1 e anche A2 B2, quindi esistono in questo gioco due equilibri di Nash, cioè esistono in questo gioco due situazioni in cui ciascuno dei due è contento di quello che ha fatto dopo aver visto quello che ha fatto l'altro, ovvero sia ciascuno dei due sta dando la risposta migliore rispetto a quello che ha fatto l'altro. Infatti perché A1 B1 è equilibrio di Nash? Perché se io sono A, posto che B ha giocato B1 io sono contento di aver giocato A1 anziché A2, e se io sono B, posto che A ha giocato A1 io B sono contento di aver giocato B1 anziché B2, quindi in questo caso ciascuno dei due giocatori è contento di quello che ha fatto anche dopo aver visto quello che ha fatto l'altro e quindi equilibrio di Nash. Stesso ragionamento in questa casella meno 3 meno 3, perché è un equilibrio di Nash? Se io sono A non so cosa ha fatto B, ma posto che B abbia giocato B2 io A sono contento di aver giocato A2, sì perché ho guadagnato meno 3, in alternativa avrei guadagnato meno 5. Analogamente B, posto che A ha giocato A2, B è contento di aver giocato B2 anziché B1, sì perché ha guadagnato meno 3 anziché meno 5, quindi anche A2 B2 è un equilibrio di Nash. Non è richiesto dall'esercizio ma vi faccio vedere perché ad esempio A2 B1 non è equilibrio di Nash, perché almeno uno dei due giocatori si pente di quello che ha fatto dopo aver visto quello che ha fatto l'altro, infatti in questa casella A2 B1, se io sono A, posto che B abbia fatto B1, io sono contento di aver giocato A2 neanche per sogno, perché ho guadagnato meno 2, se avessi fatto l'altra mossa avrei guadagnato 0, quindi io A mi pento, questo è sufficiente per dire che A2 B1 non è equilibrio di Nash, questo non era richiesto dall'esercizio ma l'ho aggiunto per chiarezza di spiegazione. Veniamo all'ultimo punto richiesto dall'esercizio, discutete l'efficienza paretiana delle allocazioni di equilibrio, sottinteso di Nash. Gli equilibri di Nash qui sono due, A1 B1 e A2 B2. Che cosa si intende per efficienza paretiana o inefficienza paretiana? Ricordo che un'allocazione si dice pareto inefficiente, se possibile trovare un'allocazione alternativa in cui tutti stanno non peggio e almeno uno sta strettamente meglio, in modo più semplificato, se è possibile migliorare per tutti, allora quella situazione si dirà pareto inefficiente, mentre se è impossibile migliorare contemporaneamente per tutti, allora quella situazione sarà pareto efficiente. Ora, qui notate che l'equilibrio A2 B2 è pareto inefficiente rispetto ad A1 B1, perché? Perché se siamo in A2 B2, meno 3 meno 3, è possibile trovare una situazione alternativa in cui entrambi stanno strettamente meglio, perché in A1 B1 A guadagna 0 anziché meno 3, B guadagna più 3 anziché meno 3, quindi sicuramente possiamo dire che A2 B2 rappresenta una configurazione per la società pareto inefficiente, perché? Perché è possibile trovare una situazione in cui entrambi stanno strettamente meglio, mentre guardate che A1 B1 è pareto efficiente perché è impossibile trovare una situazione in cui entrambi stiano meglio o quantomeno tutti stanno almeno uguali, almeno uno sta strettamente meglio. Non esiste in questo caso nessuna situazione che possa rappresentare un miglioramento paretiano rispetto ad A1 B1, quindi A1 B1 si dirà pareto efficiente. Con ciò è concluso l'esercizio.